Dario Colossi, nuovo sindaco di Darfo Boario Terme, vince le amministrative battendo nettamente al ballottaggio Paola Abondio, la sorpresa di un progetto civico senza l'appoggio dei partiti. Ancora in movimento la frana di Valbondione, ieri scesi sassi di medie dimensioni, oggi il via ai primi lavori, ribadito l'appello a non utilizzare la mulattiera del Curò e a stare lontani dall'area di cantiere. Ai numeri di un piccolo paese il Crediclusone, oggi al via 475 ragazzi e 120 animatori adolescenti, dopo due anni tutti insieme in oratorio. Tornerà anche la Festoratorio. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. In apertura alla cronaca, un escursionista disperso ieri sopra Valtorta è stato ritrovato in tarda serata. L'uomo della provincia di Monza, Brianza, con alcuni amici era salito al pizzo tre signori e mentre stavano scendendo si è staccato dal gruppo. A un certo punto ha perso l'orientamento, non era possibile contattarlo attraverso il telefono perché in quella zona non c'è copertura. I compagni si sono allarmati, hanno chiesto aiuto, la centrale ha attivato il soccorso alpino impegnato con 17 tecnici della sesta delegazione orobica. In più anche carabinieri e vigili del fuoco. Da Como si è alzato in volo l'elicottero di Areu, abilitato per il volo notturno che ha effettuato un sorvolo di ricognizione. Poi è arrivato il temporale, le squadre hanno ritrovato l'uomo nei pressi di una baita, disorientato ma illeso, e lo hanno accompagnato a Valle dove si è ricongiunto con il resto del gruppo. Cambiamo argomento, Dario Colossi è il nuovo sindaco di Darfo, Boario Terme. Il candidato della lista Progetto Vero ha vinto le elezioni amministrative al ballottaggio. Colossi si è imposto con il 65,6% di voti, sconfiggendo Paola Abondio, candidata della lista della maggioranza uscente, la Civica, che ha raccolto il 34,4%. Bassa l'affluenza, solo il 53% degli elettori si è recato ai seggi. Colossi ha ottenuto 4.018 voti validi, Abondio 2.103. 106 le schede nulle, 31 le schede bianche. Dario Colossi, 53 anni, imprenditore, non è nuovo all'attività amministrativa, è già stato sindaco di Rogno per due mandati dal 2009 al 2019. Lo abbiamo intervistato. Abbiamo in collegamento Dario Colossi, neosindaco di Darfo, Boario Terme. Anzitutto, come commentare il giorno dopo questo risultato, anche abbastanza largo al ballottaggio? Ma questa mattina il risveglio è stato piacevole. In realtà questa è la fine di un percorso che è iniziato un anno e mezzo fa, quando alcuni amici con i quali mi sono trovato hanno davvero sollecitato la creazione di un gruppo di lavoro che potesse proporsi e candidarsi a queste elezioni comunali di Darfo, Boario Terme. Si percepiva in città una certa stanchezza, una certa delusione dalle esperienze in corso e quelle pregresse e quindi c'era voglia di qualcosa di nuovo. E quindi abbiamo costruito un progetto, che abbiamo ribattezzato Progetto Verso, su cui poi abbiamo costruito la campagna di comunicazione. E l'elemento, diciamo, determinante, secondo me, è stato veramente trovare lungo la strada, lungo il percorso dei ragazzi giovani, liberi, con una storia, dico sempre, da raccontare, professionale, umana, con competenze spiccate e in vari settori, che poi sono i settori che richiedono oggi molta attenzione, no? Dico, per esempio, il settore energetico, quello del termalismo, quello dell'agricoltura, quello della rigenerazione urbana, tutti i temi attuali che dovremo affrontare per dare a questa città un nuovo volto. Questo è sostanzialmente il messaggio. Un progetto civico, come si riesce a vincere in una città con più di 15.000 abitanti senza partiti alle spalle? Questa è stata la sfida nella sfida, nel senso che quando ho accettato di mettere in campo il progetto, avevo ben chiare quali dovevano essere le regole di ingaggio di chi partecipava a questa avventura. fuori dai partiti, ma non perché abbiamo qualcosa con i partiti, ma perché secondo noi il momento storico, la situazione contingente di questa città, di questo comprensorio, richiedono capacità decisionale, libertà di pensiero, libera appunto da ogni condizionamento politico, che è sostanzialmente uno dei freni allo sviluppo di questa città, di questo comprensorio. E quindi ho chiesto a tutti i miei ragazzi di essere persone libere senza tessere e sin dal primo minuto abbiamo dichiarato che anche qualora fossimo andati al ballottaggio non avremmo fatto accordi con nessun partito. E soprattutto che non avremmo criticato chi amministrava, chi aveva amministrato, ma avremmo fatto leva sulle nostre idee e sul nostro entusiasmo, le nostre competenze, per portare avanti fino all'ultimo respiro questo progetto. In più, un altro tema molto importante, che avremmo scelto gli assessori fra i candidati consiglieri sedici che si presentavano alle elezioni. E questo è ciò che faremo nei prossimi giorni. Queste regole ci siamo dati e siamo stati, tra virgolette, non dico sottovalutati, ma a volte anche un po' derisi, un po' naif in questa proposta, in una città che non è un piccolo paesello di montagna, ma è una grande città pedemontana. E questo è il risultato che oggi ci premia di davvero tanti mesi di lavoro, di percorsi, di gruppi di lavoro, di temi approfonditi e di una visione che identifica questo luogo come i benefici di una città e i vantaggi della montagna, nel senso che quindi l'idea di una città moderna di montagna che possa essere vivibile quindi dai cittadini, ma anche una proposta turistica per chi chiaramente vuole avvicinarsi a un fine settimana ambientale, ecosostenibile, slow e turistico, essendo Darfo Boario Terme a due ore dai più grandi centri nevragici del nord Italia e dai più grandi aeroporti del nord Italia. E con il secondo turno delle amministrative è stato definito anche il nuovo consiglio comunale di Darfo Boario Terme. Andiamolo a vedere. Per la lista di maggioranza Progetto Vero entrano Pablo Putelli, Stefania Piccinelli, Emanuela Farisoglio, Fabrizio Cavalli, Raffaella Offredi, Dario Bonfanti, Nicola Belinghieri, Francesco Vezzoli, Maria Francesca Crea, Erika Pedersoli. In minoranza i consiglieri saranno sei, tre della lista La Civica, oltre alla candidata sindaca Paola Abondio, Giacomo Franzoni e Claudia Polini, tre del centro-destra, la candidata sindaca Francesca Benedetti, Francesco Abondio e Irene Abondio. Chiudiamo la pagina dedicata alle elezioni di Darfo. Proseguiamo con il nostro telegiornale. Oggi a Valbondione il via e i primi interventi per la messa in sicurezza della frana scesa lo scorso anno sopra la mulattiera del Curò. Ieri però ci sono stati ancora dei movimenti. Viene ribadito l'appello a stare lontani dalla zona. Continua a muoversi la frana del Monte Pomnolo a Valbondione. Sassi di medie dimensioni si sono staccati ieri mattina e sono rotolati a valle. Un episodio che conferma la situazione di pericolo e la necessità di rispettare i divieti di transito, a partire da quello sulla mulattiera del Curò, il sentiero Cai 305. Questo nuovo distacco si è verificato verso le 10.30 e ci è stato segnalato da un escursionista che lo ha visto da lontano, conferma la sindaca di Valbondione, Romina Riccardi. Oggi, peraltro, sono iniziati i primi lavori per mettere in sicurezza la contrada Grumetti. L'intervento prevede il disgaggio dei blocchi rocciosi instabili e la posa di una rete metallica lunga 70 metri e alta 5 sopra la mulattiera nell'area interessata. Il costo è di 250 mila euro. Per l'intervento risolutivo da 700 mila euro e la riapertura della mulattiera bisognerà invece aspettare. La sindaca di Valbondione ribadisce l'appello a non utilizzare il sentiero 305 e a stare lontani dall'area di cantiere dove è previsto anche l'impiego di esplosivo. Per salire al Curò, al rifugio Barbellino o raggiungere l'abitato di Maslana l'unico sentiero percorribile rimane il 332 che parte dall'abitato di Pianlivere. L'Overe torna a rivestirsi di arte e di luce. Davvero suggestivo lo spettacolo che si può ammirare in centro per tutta l'estate. Sabato a L'Overe la cerimonia di accensione dell'undicesima edizione del progetto L'Overe il Borgo della Luce. In occasione dell'evento La Notte Romantica i palazzi storici di L'Overe sono stati illuminati dalle proiezioni delle opere d'arte del maestro Marco Lodola dedicate ai Beatles. Per La Notte Romantica si è trattato di un ritorno in grande stile essendo la manifestazione promossa a livello nazionale del Club dei Borghi Più Belli d'Italia tornata al suo splendore dopo lo stop del 2020 e l'edizione ridotta del 2021. Con L'Overe il Borgo della Luce iniziativa voluta dall'amministrazione comunale per il periodo estivo si mira a creare un'atmosfera unica colorando gli storici palazzi del paese regalando emozioni e meraviglia a residenti e turisti. Presente alla serata anche l'assessora al turismo, marketing territoriale e moda della regione lombardia Lara Magoni. La cerimonia di accensione dell'illuminazione artistica scenografica è stata accompagnata dal concerto del pianista bergamasco Davide Locatelli. Le proiezioni si possono ammirare tutte le sere fino al 18 settembre in piazza 13 Martiri, piazza Garibaldi, Palazzo Tadini e piazza Vittorio Emanuele II nel Borgo Antico. Ai numeri di un piccolo paese il CRE di Clusone oggi al Via il servizio è di Andrea Filisetti. Finalmente oggi è ripartito il CRE di Clusone. Esattamente era tanto che lo stavamo progettando insieme ai 13 coordinatori e dopo un mese di iscrizioni con 475 ragazze e 120 animatori adolescenti oggi abbiamo cominciato questa bellissima avventura un'avventura che durerà 4 settimane dal lunedì al venerdì. Come siamo organizzati? Praticamente il lunedì, il mercoledì e il venerdì saremo qui in oratorio tutti i pomeriggi con tanti laboratori, tante iniziative, i giochi, i balli. Il martedì e il giovedì invece faremo le gite. Il martedì qui attorno sul territorio mentre il giovedì è in giro per le piscine della provincia e non solo. Che dire, c'è tanto entusiasmo, tanta voglia di stare insieme. Dopo due anni siamo tornati a fare il CRE tutti insieme qui all'oratorio. È vero che ci saranno altri spazi che ci accolgono per le attività come la scuola e il Vesta ma il momento iniziale, il momento finale che sono i momenti così di gioia tutti insieme, ritorniamo qui in oratorio. Ed è bellissimo vedere così tanti ragazzi con tanta voglia di fare, con il desiderio di stare insieme, con il titolo di quest'anno che è Batti cuore, gioia piena alla tua presenza di cosa si parlerà? Si parlerà di emozioni. I ragazzi vivono tante emozioni diverse fra di loro, noi così di settimana in settimana cercheremo di snocciolarle. E poi dopo queste quattro settimane o meglio durante l'ultima settimana di CRE inizieremo anche la festa oratorio dopo due anni di sospensione dal 20 di luglio al 24 di luglio qui in oratorio se aggiungeremo questo grande momento di festa che riprende alla grande insomma come era prima del Covid con gli stand per mangiare, i gonfiabili quest'anno ci sarà anche un grande torneo di bicivolle che coinvolge più di 20 squadre di giovani insomma che dire una estate che si prospetta molto molto entusiasmante. Come vi avevamo annunciato da questa sera iniziamo a seguire le esperienze di alpinismo giovanile del CAI di Clusone e del CAI di Castione. Siamo in collegamento con Montagna Ragazzi esperienza del CAI di Clusone che si sta svolgendo al rifugio Curo di Valbondione come sono andate queste prime due giornate? Queste prime due giornate sono andate benissimo il tempo ci ha sempre assistito e i ragazzi sono davvero tutti bravi e tutti carichi per vivere questi giorni in montagna. Ieri siamo partiti da Valbondione e pian pianino siamo arrivati all'osservatorio di Maslana dove Mirko Bonaccorso ha fatto una bellissima lezione a tutti i bambini e tutti i ragazzi sulle cascate del ferio sugli stambecchi, sulla flora e sulla fauna. Dopo una breve tappa lì quindi abbiamo pranzato siamo saliti pian pianino al rifugio Curo e essendo arrivati nel primo pomeriggio abbiamo deciso di andare verso la Val Cerviera a farli rilassare un attimo alle cascatelle all'inizio della Val Cerviera quindi poi siamo entrati in rifugio abbiamo dormito più o meno tutta notte e questa mattina tutti carichi per arrivare invece ai laghetti della Val Cerviera anche oggi è andato tutto benissimo tutti i ragazzi stanno bene non è successo nulla di grave si sono divertiti ai laghetti della Val Cerviera con dei giochi di costruzione di castelli e altro e poi siamo rientrati al rifugio e siamo fermati ancora un attimo ai piedi della Val Cerviera ancora per farli rilassare e pucciare i piedi nelle cascatelle e stasera invece abbiamo la serata dei guardiacaccia quindi verrà Matteo Rodari che gli spiegherà un po' tutto il lavoro dei guardiacaccia di tutta questa riserva nei dintorni del Curo e quindi avranno qualcosa da imparare anche stasera e adesso sentiamo come procede Vai col CAI esperienza del CAI di Castione un saluto e un buonasera a tutti gli ascoltatori di Antenna 2 ai genitori e i familiari dei ragazzi che stanno partecipando alla vacanza di Vai col CAI quest'anno a Rifugio Calvi mando un po' di informazioni in questi giorni cercheremo di fare dei collegamenti quasi quotidiani dipenderà poi dalle zone dove ci troveremo non c'è molta connettività è andato tutto bene il viaggio di domenica mattina ci siamo ritrovati a Carona mentre preparavamo i bagagli per farli caricare il rifugista abbiamo anche visto una gara di macchinine in quel di Carona e poi siamo partiti a piedi siamo arrivati fino alla diga e al laghetto di Fera Bolgia una volta arrivati al Calvi la classica doccia e poi una bella cena e siamo andati a letto abbastanza stanchi di buon mattina invece stamattina siamo dopo la colazione abbiamo deciso di fare i tre laghetti siamo saliti dal Calvi verso il primo lago dei Curiosi a circa 2.100 metri per poi spostarci al secondo lago di Cabianca e scendere al doppio laghetto di Zelto e da lì poi siamo ritornati alla diga e poi al Calvi nuovamente siamo appena arrivati stiamo tutti bene nel murale della truppa è molto alto e vi manderemo futuri aggiornamenti per le prossime gite un saluto a tutti e a presto un trenino di legno per i bambini di Colere un dono dei geppetti del paese sentiamo sarà una domenica speciale quella del 3 luglio a Colere in Valle di Scalve alle ore 15 i bambini del paese riceveranno in regalo il tronchitreno realizzato dall'associazione Geppetti costituita nel 2018 tra gli appassionati artisti del legno di Colere e Valle di Scalve presso il parco giochi in centro al paese i geppetti hanno installato su una rotaia una motrice e due carrozze ricavate da grossi tronchi di legno si tratta di sculture uniche senza giunture frutto dell'ingegno e della fantasia dei soci scultori dell'associazione che in precedenza avevano realizzato la riproduzione delle quattro matte le guglie che sovrastano il paese attorno alle tre carrozze sono state installate figure stilizzate di pavoni realizzate sempre in legno una coloratissima chioccia su un alto piedistallo dà il benvenuto ai passeggeri l'iniziativa ha raccolto il consenso dell'associazione alpini di colere a cui è intestato il parco e che ha fornito anche la sua collaborazione i geppetti invitano tutti i coleresi e villeggianti a partecipare alla cerimonia di consegna di quest'opera ai bambini del paese in seguito si realizzeranno anche altre iniziative da parte dell'associazione specie in previsione dello sviluppo sciistico a cui colere si sta preparando con ingenti investimenti di privati in occasione di questo evento verrà esposto anche il modellino del gigantesco mappamondo dentro cui potranno giocare i bambini perché attrezzato con scale posti e sedere che i geppetti vogliono realizzare sempre nel legno per farne una trazione l'evento si concluderà con un rinfresco offerto a tutti dai geppetti adesso lo sport i ragazzi del nostro territorio continuano a farsi valere Nicola Morosini 17enne di angolo terme tesserato con l'US Rognio ieri si è messo al collo la medaglia d'argento per la categoria cadetti under 18 ai mondiali di corsa in montagna a Saluzzo in Piemonte sul gradino più alto del podio il polacco Makley Lachowski tempo 16 e 16 Morosini ha concluso in 16 e 21 terzo l'altro azzurro Alessio Romano che ha chiuso in 16 e 40 proprio la squadra di Morosini Italia A ha conquistato il vertice della classifica nella gara femminile Alessia Pellegrini dell'Atletica Valle Brembana si è piazzata al decimo posto ed è stata la migliore delle italiane l'Italia femminile a squadra è arrivata terza dietro Inghilterra e Francia E' un altro splendido risultato per Serena Ondey nel Judo sabato 25 giugno la 17enne di Rovetta si è classificata al terzo posto ai campionati europei cadetti in Croazia Serena Ondey era tra le favorite ma uno sfortunato infortunio avvenuto una settimana prima della gara ha messo in discussione la sua prova dopo aver perso il primo incontro contro un'atleta austriaca anche perché partita con eccessiva preoccupazione per non aggravare l'infortunio la ragazza di Rovetta si è resa protagonista di un entusiasmante recupero battendo in successione un'atleta bosniaca una tedesca e in finale una svizzera Serena Ondey negli ultimi mesi ha ottenuto altri risultati di altissimo livello sia nazionale che è internazionale ha vinto il titolo di campionessa italiana 2022 della sua categoria ha conquistato la medaglia di bronzo nella classe Juniors superiore alla propria sempre ai campionati italiani infine si è messa al collo un oro un argento e un bronzo in tre distinte gare di Coppa Europa sempre lo sport parliamo di calcio successo anche per la nostra emittente al torneo notturno delle Fiorine sentiamo Radio Like conquista il torneo notturno autogestito di calcio a sette delle Fiorine categorie Lievi sabato sera la finale sul campo dell'oratorio delle Fiorine di Clusone la squadra sponsorizzata dalla radio collegata ad Antena 2 TV e a MyValli.it ha battuto ai rigori il bar spicchio di Rovetta un esordio davvero promettente essendo la prima esperienza di questo tipo per il gruppo sostenuto dall'emittente radiofonica bergamasca i ragazzi allievi under 17 sono riusciti a rimontare dopo un inizio non facile nella prima mezz'oretta hanno incassato tre gol e prima del termine del primo tempo hanno iniziato la rimonta fino ad agguantare il pareggio nella ripresa per nulla decisivi supplementari e fiato sospeso fino alla fine con i rigori al quinto e ultimo calcio dal dischetto la squadra delle bar rovettese non è riuscita a mettere il pallone in rete assegnando così agli avversari la possibilità di alzare la coppa al cielo 8 a 7 il risultato finale nella squadra di Radio Like Luca Terzi Davide Oprandi Michele Meloni Mattia Zanoletti Michele Simoncelli Michele Marinoni Thomas Poloni Andrea Terzi Matteo Pedretti Matteo Savoldelli seguiti dagli allenatori Giorgio Azzario e Marco Galizioli il torneo è stato organizzato sotto tutti gli aspetti dai ragazzi del territorio dell'alta e media valseriana 15 le squadre che vi hanno preso parte quasi 300 i giovani in campo due le categorie coinvolte allievi e juniores quest'ultima vinta dalla squadra figli di Beppe Tracciamo afferma Anna Balduzzi segretaria del gruppo sportivo delle Fiorine un bilancio molto soddisfacente per via del grande impegno di tutti i ragazzi per circa un mese sono riusciti a creare presso l'oratorio un punto di riferimento e un'occasione per stare insieme all'insegna dello sport durante i pomeriggi hanno inoltre coinvolto i bambini più piccoli sabato sera tutto si è chiuso con una festa partecipata anche dalle famiglie e arricchita da una coreografia organizzata dalle amiche dei giocatori e complimenti davvero ai ragazzi della squadra di Radiolike ancora il calcio perché questa sera su Antenna 2 va in onda la prima puntata stagionale di Potadea la trasmissione dedicata al ritiro dell'Atalanta a Crusone sentiamo Elisa Cucchi meno sette giorni alla via ufficiale della stagione sportiva 2022-2023 dell'Atalanta e noi di Antenna 2 per il dodicesimo anno consecutivo ognuno di sera siamo pronti a raccontarvi le ultimissime dell'estate neroazzurra con Potadea che riprende questa sera lunedì 27 giugno alle 20.30 gli ospiti saranno l'ex neroazzurro mister Claudio Foscarini ci sarà Massimo Morsabilini primo cittadino di Clusone che ci racconterà magari anche le ultimissime legate al ritiro che vi ricordo inizia venerdì 8 luglio e termina sabato 16 luglio e con loro ci sarà anche Arnaldo Guadagni conduttore di tempi supplementari anche per le ultimissime dal calcio dilettantistico insomma come sempre tanta carne al fuoco io vi aspetto dalle 20.30 sul canale 84 a dopo e Forza Atalanta e adesso un'altra anteprima è il momento di scoprire cosa ci propone domani sera il sasso nello stagno domani sera tornerà il nostro appuntamento dedicato al sasso nello stagno argomento della settimana la crisi idrica la regione ha lanciato l'appello a consumarne tentare per lo meno di consumarne meno possibile perché davvero manca voi fate qualcosa appunto per risparmiare l'acqua questa è la domanda della settimana tutte le interviste domani sera alle 20.40 sul nostro 84 di Antenna 2 TV da Dorga e adesso una intervista in anteprima come facciamo per risparmiarla hai qualche consiglio o cosa fai tu noi cerchiamo di consumarla meno penso come tutti però bisognerebbe cercare di raccoglierla prima secondo me di arrivare alla crisi tipo d'inverno se è possibile ovviamente creare bacini o cercare almeno le perdite ci sono tante perdite magari in giro è verissimo hanno stimato che tantissima acqua viene persa appunto in tubi rotti cercare di monitorare quelle che già quello è un buon risparmio poi ovviamente sta un po' e nella testa di tutti cercare di consumarla almeno possibile però quando piove adesso è vero che è mesi anche d'inverno che non piove però pensare già a priori pensando che magari d'estate può arrivare questo problema cercare di risparmiare già prima della crisi e gli esperti dicono che non è un problema adesso è un problema appunto di prima non nevica non ci sono scorte non nevica non piove è un risparmio che dovrebbe riguardare tutto l'anno non solo l'estate quando ormai la crisi c'è e secondo te è una cosa comunque ciclica che della serie l'anno prossimo sarà diverso vabbè è un caso unico quest'estate non credo credo che ormai visto che è anni che è così che si presenta questo problema cercare proprio di creare a livello generale non solo di castione ovviamente cercare di creare il modo di raccoglierla o di contenerla nelle perdite per cercare di averne almeno un pochino in più quando serve siamo in chiusura i programmi di Antenna 2 questa sera alle 20 e 30 a Potadea alle 21 e 30 uno speciale dedicato al trail del Segredont alle 22 e 30 la seconda edizione del TG alle 23 e 15 più salute news alle 23 e 40 agri sapori a mezzanotte e mezza la terza edizione del telegiornale l'almanacco domani è martedì 28 giugno il sole sorge alle 5 e 27 e tramonta alle 21 e 20 la luna è nuova sorge alle 4 e 33 e tramonta alle 21 e 15 la chiesa ricorda Sant'Ireneo di Lione è tutto anche per questa edizione grazie per averci seguito vi ricordo dopo il telegiornale l'appuntamento con le previsioni del tempo buona serata grazie a tutti